Massimo D'Aprile, per te comunque questo è un ritorno, se vogliamo, a casa, in un'altra veste, ma comunque sempre di ritorno a casa si tratta questa collaborazione? La Teramo Calcio, nella sua storia, non ha mai delegato un proprio ramo a un'altra società, quindi penso che sia un riconoscimento importante da parte della Teramo Calcio, perché effettivamente ha avuto la possibilità di verificare nei due anni di attività della Bonolis come lavora la Bonolis, non un traguardo ma un punto di partenza. Abbiamo dei numeri veramente importanti, in quanto parliamo di circa 200 ragazzi, sicuramente saranno destinati ad aumentare notevolmente. Poi per quanto riguarda la mia situazione, io l'ho ribadito in conferenza e colgo l'occasione per ribadirlo anche qui, non è un ritorno, nel senso che io dalla Teramo Calcio non sono stato mai lontano, né quando giocavo a calcio e giocavo in Lombardia, in Piemonte o in Calabria, né ora che in ogni caso sto svolgendo queste attività a Teramo. Teramo per me è il primo obiettivo, lo è stato sempre a giocatore, lo è da dirigente, ma oggi sicuramente il mio interesse è focalizzato solo e esclusivamente sulla mia scuola calcio. Due entità che rimarranno comunque distinte, ma che cosa può dare la Bonolis al Teramo, qual è il valore aggiunto? La Bonolis al Teramo può dare sicuramente ad oggi un bacino di cui penso due società nella provincia di Teramo dispongono che sono il Bariatica e Cologna, nessuno ad oggi dispone il bacino di cui dispone la Bonolis. Abbiamo istruttori, penso i più capaci che in ogni caso il territorio possa dare, la cosa che mi fa più piacere è che nell'accordo sottoscritto tra la Bonolis e il Teramo non si parla di soldi, né da una parte né dall'altra, quindi vuol dire che da parte di tutti c'è la volontà di donare e di crescere senza guardare un interesse personale, ma solo la crescita della Teramo Calcio e dei ragazzi di Teramo. Chi ama Teramo è giusto che faccia il bene della Teramo Calcio. Oggi la scuola calcio è un progetto importante, cominciamo a lavorare veramente bene sul territorio, con delle forze importanti e secondo me si può fare veramente un buon calcio, ma soprattutto una scuola calcio. Poi i giocatori capire se sono bravi o non sono bravi è una parola grande, però avere delle idee di come poter fare il calcio dopo aver fatto una scuola calcio.